Alcuni nei commenti si aspettavano che questa volta Alex sarebbe tornato, che gli avremmo concesso un'altra vita, però non è stato questo il caso, come potete vedere qua c'è la tomba di Alex, perché effettivamente in questa serie siamo in hardcore e se uno muore una sola volta ha perso, ha finito, non ha più possibilità di tornare, ok? Quindi siamo solamente noi quattro adesso? Per ora siamo noi quattro, volevamo far entrare estrema, oggi non c'è, forse la prossima volta potrà entrare, Alex di sicuro in questa serie purtroppo, io ci sono rimasto molto male, ma purtroppo non c'è più Doveva stare attento Doveva stare attento, soltanto che è ovvio, prima o poi ci prenderà tutti, prima o poi capiterà per tutti noi il momento che moriremo, cioè è solo questione di tempo Ma speriamo di no È questione di tempo È questione di tempo Ma pochissimi episodi e già qualcuno se n'è andato Infatti, infatti, no no, è solo questione di tempo, però io voglio cercare di allungare questa serie il più possibile, perché mi piace, perché è divertente e perché è un brivido, ma è proprio brivido perché è così difficile È il rischio, è il rischio Abbiamo diverse cose da dire, allora, prima di tutto ci siamo spostati, siamo andati ad abitare in questa caverna che è piena di minerale e questi minerali dobbiamo ciucciarceli perché sono qualcosa di veramente utile Io raccoglio il carbone, tu vai a prendere il ferro che puoi Aspetta, aspetta, non abbiamo ancora messo la crafting table, chi ce l'ha di voi? Ce l'ho io, ce l'ho io, dove la metto? A fianco alla fornace, Giorgio, bravo, bravo Allora, con questa crafting table possiamo fare degli elmetti di pelle, ok? Elmetti di pelle Oh mio Dio! Cosa c'è? Girati, 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 girati Anna, spostati, 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 spostati Mamma mia Porca miseria, Cico, anche tu È fortissimo, è fortissimo, non riesco Tranquillo, tranquillo, è andato, è andato, è andato, è andato, è andato, è andato Ok, non bisogna minare troppo Comunque ci danno questo coso io non ho idea di che cavolo fosse, Anna, non devi minare Da dove è uscito? Da dove è uscito? Stavo prendendo il carbone, rompendo i blocchi e è uscito questo affare Ma lo sapete che prima era notte, io questa cosa non l'ho fatta vedere purtroppo Ma prima era notte e c'erano delle banshee nel villaggio Infatti noi siamo scappati dal villaggio dove abbiamo chiuso l'ultima volta Per quello che erano dei mostri orribili che passavano attraverso le pareti Le pareti Quelli sono fortissimi? Sì, attraverso le pareti E quindi nemmeno una casa è sicura? Niente è sicuro Infatti sotto terra spero che almeno lì non vengano Comunque un elmetto a Giorgio Grazie Un elmetto ad Anna Un elmetto a Cico E un elmetto a me Ora, questo elmetto ci serve per due cose Dovete tenerlo sempre in testa e cercare di preservarlo anche Ok? Perché praticamente se uno scheletro o qualsiasi altra cosa vi colpisce in testa E non avete protezione Morite in un colpo Così invece avete un po' di protezione e funziona meglio Poi Cibo ne avete? Mi avete detto sì Sì, tantissimo Ok, perfetto Iniziamo anche a collezionare tutti questi oggetti leggendari Che non ho idea di che cosa siano Questa è una lancia Che però, boh, forse si crafta con altri oggetti per crearla Genisce magari Potrebbe essere, non ne ho la più pallida idea Secondo me si combinano Potrebbe essere, sì, sì, sono strani Noi siamo migliorati anche come livelli Io sono abbastanza curato anche Ho anche altre bende Quindi per questo siamo a posto Anna, mi sembra che tu sei messa male Tieni, prenditi Due bende Due bende Due bende Cico stai messo benino Giorgio Stai messo benissimo Ok, perfetto Adesso dobbiamo uscire di fuori Perché di fuori ci sono delle cose Io non so che ore sono fuori È tardi, è quasi notte È notte, è completamente notte Però abbiamo i letti Quindi adesso possiamo Aspettate Aspettate Allora Ricordatevi che qui non si dorme La notte non salta, ok La notte trascorre comunque A una velocità aumentata Va bene? È vero Quindi adesso io dormo in quello nero In quello a fianco a me c'è Anna Poi Cico E Giorgio in quello rosso Ok Andiamo Proviamoci Proviamoci Non possiamo dormire Oh mamma mia Mamma mia Mamma mia Ok Non è stata per niente una buona idea Ma allora Oh mamma mia Attenti con la spada E nei muri E nei muri Sì lo so Lo so Lo so Basta che tutti allontani Perché io ho paura di essere colpito da voi più che altro Ok Allora non dormiamo più Non dormiamo più Anche perché io adesso ho un effetto che si chiama insonnia Ok No Voi non ce l'avete Non parlatevi tutti sopra Giorgio e Anna Non riesco a capire No ci sono mostri Ok perfetto Benissimo Fantastico Ottimo Allora non dormiamo più Ok Non dormiamo più Sta modalità raga è troppo difficile comunque C'è anche uno di quegli scheletri con la trombetta Mi mettono il nervoso Sembrano che ti prendono in giro Ti prendono in giro Venite Andiamo in una delle strade che abbiamo sbloccato e non siamo andati Ok Vediamo che cosa succede C'è anche del perro C'è anche del perro C'è anche del perro C'è anche del perro Per quanto possiamo Cioè se questi cosi passano attraverso le pareti Voglio vedere come facciamo Non possiamo fare nulla Non possiamo fare niente Cioè se ce ne compare uno dietro le sballe siamo morti Vedi perché te lo dico In realtà inizio a pensare che quelli in particolare sono usciti perché noi abbiamo cercato di dormire Pure secondo me quelli erano dei mostri tipo del sonno Attento a non scavare troppo No no tranquilla Ok Questo è tutto il ferro che abbiamo Un bel po' di ferro Adesso Sicuro vuoi andare? Eh sono sicuro sì voglio vedere Allora c'è solo uno zombie qua eh Quindi È facile allora Ma guarda quanto da lontano Guarda quanto da lontano arriva Cioè è stranissimo anche Perché proprio ti vede È come se ti vedesse da miglia e miglia di distanza Invece che nel minecraft normale ti vede Esatto Sono da vicino Rimanete indietro eh che ci sono altri mostri Ok certo certo Dobbiamo stare uno alla volta Uno alla volta Tranquilli uno alla volta Vate attenzione e guardatevi intorno Perché si vedono dei nostri mostri Oh mamma mia indietro 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 Questo coso mi aveva preso No 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 fammi passare fammi passare Chiudi 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 Ok io me la sono vista brutta Mi sono visto morto Ma che ti ha fatto scusa Mi aveva acchiappato Era una specie di Ti ha toccato la testa Oh mio dio Me lo vedevo poco davanti È stato bruttissimo Non mi arrendo Andiamo di nuovo Curati 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 prima Ok va bene va bene va bene Mi aveva rotto una gamba Completamente Abbiamo bisogno di una ninfa Se riuscissimo a portare giù una ninfa Sarebbe buonissimo Ma anche dormire Dormire comunque ti rigenera parzialmente Ma solamente un 50% La ninfa ti cura completamente Buttalo via però il 50% Sì la ninfa sarebbe la cosa migliore da avere Però Chico se riapri io ci riprovo Ok vado 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 Vai attento Oh dio Richiudi 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 Tranquilli tranquilli Oh mio dio ha droppato una mano La sua mano Sì ma queste cose cosa sono Ma provatevi un grue Allora dice Questo oggetto può essere usato per creare Un potentissimo equipaggiamento Usando una forgia dell'equipaggiamento Oppure può essere craftato in una risorsa utile Quindi praticamente con questo oggetto qua Tu puoi creare un'arma Ok Che infatti è proprio una spada Però devi avere questa forgia dell'equipaggiamento Che non è E noi ce l'abbiamo ancora No non è una forgia normale Dobbiamo capire come si fa Chico riaprimi e io vado avanti Vai Ok Ho una spada molto buona adesso Illumino io C'è un topo Ma perché è pieno di topi? Cioè Infatti sono ovunque È stranissimo È buffa Cioè da un lato è molto buffa questa cosa Perché Attenti che dall'alto possono cadere dei mostri Attenti sì La sopra c'è qualcosa C'è anche il topo la sopra eh Attenti C'è un Cosa che si chiama Light Ramon Eh Non so se è quello il topo Mi sa di no però eh State attenti Qua sotto si scende No 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 Aspettate aspettate Vuoi salire? Vorrei salire prima Ma soprattutto stiamo un po' Stiamo Attento Ok ho il topo il topo il topo Un topo radioattivo Attento Attento spostati Giorgio scappa Scappane Scappane Sto piccando Scappane Ok è morto Dovete scappare amici Dovete scappare Dovete scappare Ok 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 corri Dovete scappare solo È uscito anche lui Anche lui Lo uccido io Lo uccido io È morto È morto È morto Porca miseria C'è un altro lì C'è un altro qua fuori C'è un altro Allontanatevi Dovete scappare Dovete scappare In modo che io possa ucciderli Cico porca miseria Te l'ho ucciso È fortissimo Sei vivo Amico sei vivo Pochissimo Sei distrutto Sei distrutto Cico ti devi curare Sei distrutto Io c'ho un paio di cure Però Cioè è stato È stato pericolosissimo Abbiamo rischiato di morirci Lo vedete che non c'è niente Che puoi fare Cioè se ti arrischi Muori Se non ti arrischi Rimani chiuso dentro casa Anna vieni qui In qualsiasi posto Fuori nelle caverne Dai sbrigati Vieni qui Vieni qui Vieni qui Eccomi È un paio di torce anche Perché sennò Continuano a generarsi mostri Almeno Cioè vicino a casa nostra Cerchiamo di ridurre Capito Lo spawning di queste schifezze Cioè Ma nelle caverne è impossibile Nelle caverne non possiamo Però almeno qui Ok venite fuori Do un paio di bende a Cico Ma mi sto morendo Eh lo vedo Ti ha distrutto Te lo do due Due topi assurdi poi Curati le cose più distrutte che hai Giorgio pure non è messo bene Anche io Cioè guarda Io come sto messo Mi ha praticamente morso alla testa Mi aveva quasi distrutto la testa Meno di me da vita E la gamba destra Cioè sono Fortunatamente dovremmo essere in grado Di fare qualche altra benda E sono solo topi Sono solo topi Raga Vediamo se è venuto giorno Che in teoria dovremmo esserci Più o meno Giusto? In teoria sì Ok Quasi giorno eh Non giorno completo No ancora è notte Però si dovrebbe stare Ma quanto dura? Non lo so Non lo so guarda Perché ci mancava anche la notte più lunga del normale Per avere Possiamo dormire però No 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 Non è una buona idea Secondo me dovremmo provare Non è una buona idea invece Ok ragazzi Fuori è mattino Possiamo uscire Esco prima io Do un'occhiata Solo tu? Solo io Perché secondo me Silenzio Secondo me fuori c'è la morte comunque Cioè non si può sopravvivere È sicuro È sicuro Provo a metto fuori il naso Io solo ok Vai vai È venuto a piovere C'ho una paura incredibile Ma porca Dai 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 ma non si può uscire mai Cosa mi è successo? Cioè io non so Ti ho avviato una frecciazza Vedo il sangue C'è il sangue davanti Con il cacchio Cioè io non ho visto neanche nulla Non si può fare La terza volta proviamo a mettere fuori il naso Ogni volta succede qualcosa È impossibile Finiamo qui la serie della caverna Finiamo qui Non usciamo mai più Sto sclerando Giorgio esci fuori a vedere cosa c'è Ok scusi No ho detto Giorgio Ok Vabbè Poi stiamo anche bruciando di caldo Quasi Solo qua si sta bene Perché tipo c'è il freddo della caverna Giorgio è vivo? Non c'è niente Non c'è nulla Io non vedo nulla qua Mi ha attirato le ciabatte Non lo so No a me niente Ho preso solo una freccia e delle ossa Di uno scheletro Ah allora è morto per la luce Che poi luce è un cacchio Ma scusate ma sta piovendo? No In teoria si sta piovendo Ma in questa zona non piove Non piove Ok Meglio perché io la pioggia la odio pure Ascoltate ma qui Perché stiamo sempre morendo di caldo? Spiegatemi Io vedo la nuzione Siamo nella savana Ma non è vero È savana questa Guarda Sì è savana Oh mio dio Ma non si può Ehi Cosa? Che succede? Non lo so Cosa? Ho preso danno Credo dal caldo Eh sì il caldo fa male dopo un po' Ho fatto male anche a me Eh è il caldo È il caldo Però c'è la ninfa Fortunata Allora io da sta zona Non me ne vorrei andare Perché è bella C'è il deserto rosso lì Che è fighissimo Il deserto normale lì Poi ho visto anche una piramide Se riesco a inquadrarla Non riesco a fare nulla Si muore di caldo Dobbiamo andarci Da più per forza Il bello Il bello è che io ho chiesto Al mio amico Ormai Cicotobi Ci conosciamo da un sacco di anni Quindi io mi fido Delle risposte che mi dà E gli ho chiesto Zitto Gli ho chiesto Amico come si farà Mai cerca un po' Come si fa Informati per capire Come si fa a non morire di caldo E lui fa Ah basta farsi l'elmetto E io tutto convinto Della sua risposta Ah ok Quindi facciamoci gli elmetto Non servono anche Stiamo crepando di caldo Anche le ciabatte servono Ma 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 Guarda Non ti dico cosa ci devi fare Con le ciabatte Comunque Al villaggio possiamo andare No perché c'è caldo anche là E' caldo aperto Questa zona è tutta quanta calda Andiamo in qua Venite Venite veloci Ma di là non c'è il deserto scusa No più in là non c'è il deserto Di là ci sarà un altro bioma Spero Perché a quanto pare La foresta a caccia E' caldissima Che ha anche senso Oh Cico Ricordi No lì piove pure Lì piove pure E' meglio se piove Meglio Che piove va bene Però c'era un animale Aspettate Rimanete un po' indietro voi Ok Devo vedere che cos'è Un coboldo Ah no questi scappano Ah no Tranquilli tranquilli Allora Qualcuno deve fare uno screenshot Di dove era però La zona In modo che ci ricordiamo Capito Ok fatto io Ok sei sicuro Guarda che se perdiamo Sì sì fatto Abbiamo tutte le cose Eh lì Ok Allora qui siamo ancora In bioma caldo Ma qui non è dove c'era La torre col tetto di lapislazio E infatti la torre è lì L'abbiamo mezzo scassata Ok No non è quella lì E' un'altra Un'altra ancora Sì E il problema è che io Non so neanche Cioè qua è sempre bioma Di savana O sbaglio No no Perché se ci bioma Significa che non lo è Oh mio dio Ora si lo è Mamma mia Ma che cos'è E' tutta una fregatura Ma qui c'è qualcosa Eh lo vedi Quella specie di dungeon Lì sulla parete Eh sì Vogliamo andarci Ma guarda io qualche pecorella L'ammazzerei comunque Ma fa troppo caldo Poi c'è anche la lava Cico se ti butti davanti Mentre io sto spadando Le pecorelle Fai la fine che fanno loro Ma stanno anche prendendo a fuoco Gli alberi lì Guarda Davvero E c'è la lava Ma porca miseria Ma allora non si può vivere Da nessuna panca E la ca Sta prendendo fuoco Tutto Cos'è Ah no ma lì c'è la lava C'è sotto una pozza di lava Eh allora sarà per quello Che stiamo morendo di caldo Sentite Vedete dove sto andando io Mi vedete Sì 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 Anna mi vedi Perché Anna fa sempre Io mi sono dovuta buttare nell'acqua Perché stavo andando a fuoco Anna devi venire appresso a me Devi venire ok Va bene arrivo Veloce anche Non ti dobbiamo fermare ad aspettarti Che poi moriamo Io vedo tutto rosso Vedo tutto arancione Vai in acqua corri Vai in acqua Ho capito a te vai in acqua Ma io voglio andare da qualche parte Guarda qui piove 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 Cosa dobbiamo fare Cioè guarda E la pioggia fa bene Accetto anche guarda Di stare in mezzo alla pioggia Ci sono anche le particelle sull'acqua Molto belle Anna dov'è Si è persa Poi guardate nel deserto Al posto della pioggia C'è tipo una tempesta di sabbia E una tempesta Non ho mai visto una roba del genere Non lo so No non fa male Non fa male Ascoltate Approfittiamo del fatto Che c'è brutto tempo E andiamo a vedere quel tempio Perché era una delle cose Che avevo visto Ok corri Almeno una cosa Riusciamo ad entrarci no Cioè mi sta iniziando anche a A dare fastidio Perché Cioè abbiamo tanti punti esperienza Stiamo riuscendo a fare qualcosa Aspetta Fermi E non parlatevi uno sopra Giorgio per favore Scusa 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 Oh mamma mia Non so cosa sono Sono Ma enorme Ah Ecco Ok non so se sono cattivi o no Credo di sì però Sono cattivissimi E sono anche forti Sono forti Non ti mettere davanti Non ti mettere Non ti mettere Oh ne è uscito uno Ne è uscito uno Oh oddio dietro dietro Oddio spara Va bene va bene Cosa dobbiamo fare Ce ne dobbiamo andare Qui fuori guarda Oh mia Ok Allora quello fuori Ci pensa Cico Io penso a quelli dentro Va bene Raga qua neanche si può rimanere Cioè io non so più cosa fare Sono disperato No è possibile Andiamoci Andiamo dalle torri No no ce ne andiamo dalla porta Basta 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 Scappate dritti E va veloce 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 Verso l'acqua Dritti verso l'acqua Io boh Non so più Cioè io volevo fare un po' il coraggioso Per andare a vedere qualcosa di nuovo Qualcosa ci sta inseguendo Ancora Mamma mia Mamma mia Ciete vivi State bene Sì 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 Siamo bene Via via veloci Non fermarti Non fermarti Andiamo qua sul deserto E corriamo Ok Frega niente della temperatura Venitemi dietro Ok Porca No ragazzi Non si può Non si può Vuoi tornare a casa Sì 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 Voglio tornare a casa Cioè Non si può Non si può fare niente Io sto sentendo rumori di roba che ci vuole ammazzare Giorgio stai bene Sono i miei pantaloni in realtà Sono i miei pantaloni Fanno rumori di maglia Ok Sì sì Ok va bene va bene Almeno una roba che non ci vuole rompere Lì c'è una casettina No no Dobbiamo tornare nella nostra casetta Vi ricordate dove era Cico? Era più o meno qui davanti Qui davanti Sei sicuro? L'entrata? Sì 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 Ok state attenti Dovremmo esserci Dovremmo esserci Dovremmo esserci Allora mi ricordo quello che è lo spawner Dove ho fatto un po' di livelli È buono quello E l'entrata dovrebbe essere Sì dovrebbe essere qui vicino Dovrebbe essere qui vicino Guardate tutti Concentrateli Era vicino all'acqua se non sbaglio Vicino più al deserto rosso era Quindi davanti a noi ora Comunque ragazzi Io non so più cosa fare Cioè Ho paura Trovata venite Ok sì ci siamo Ci siamo ci siamo Ci siamo Giorgio c'è qualcosa Che danno dal caldo eh Anna io non ti vedo più Dov'è Anna? Dov'è Anna? Non lo so È qui è qui è qui Sbrigatevi Entrate in casa Che dentro casa c'è l'acqua Ci possiamo raffreddare di velocità Veloce 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 Corri Comunque non so più cosa fare Cioè ragazzi Io veramente non so più cosa fare Giorgio vai vai chiudo io Chiudo io Ok vai 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 Cioè è impossibile stare là fuori Veramente Ma è impossibile stare ovunque Cioè è impossibile Qualsiasi cosa Io mi preoccupo Perché dico boh Cioè non è che possiamo fare neanche Tutti gli episodi Fermi in casa Ok cioè Ovvio Ovvio Però non puoi Come fai diversamente Cioè ogni volta che esciamo Succede il teggio Volevamo andare nel deserto Per esplorare il deserto rosso No perché si muore di caldo Ok Volevamo andare allora nel tempio Quello del deserto Per vedere cosa c'era dentro Magari c'era il tesoro E c'erano quei mostri E c'erano quei cosi Che continuavano a respawnare Ne abbiamo uccisi due tre E continuavano ad arrivare all'infinito Io sono disperato Sicuramente abbiamo bisogno Di armature complete Perché potrebbero aiutarci Ok va bene Allora dovete usare Un po' di livelli Da mettere in difesa Perché altrimenti Armatura di ferro Neanche la potete mettere Non potete nemmeno metterla Va bene Un po' di ferro Ce l'abbiamo pure Ma non tantissimo Mettetevi un po' di livelli Allora dai Mettetevi un po' di livelli In difesa Va bene Ne metto qualcuno anche io Vuoi scendere di caverna ora? Aspetta Prima mettiamoci Sti punti in difesa Va bene Che in teoria Dovrebbero servire per quello Ok io sono all'8 All'8 va bene Ora Io ho il pantalone Già se uno di noi Scusate se sono un po' Come si dice Un po' Ingordo Ok Non dovrei esserlo Fai tranquillo Fai Almeno se Cioè uno di noi Io vado più Tanto vado sempre avanti io no? Vado avanti un po' più in armatura Voi rimanete dietro E mi prendo il danno io Va bene così Va bene così tranquillo Poi piano piano Le facciamo per tutti Capito? Però almeno Ok adesso io sono Full armatura Full armatura Purtroppo ho usato Così dovresti riuscire a resistere meglio Contro quei cosi là fuori Vorrei vedere Contro qualsiasi cosa Ho anche qualche altro pezzo Allora ascoltate Con questi altri pezzi Io farei Una chest plate Ok E la do a cigo Perché di solito È lui che viene avanti E basta Sto morendo di nuovo di caldo Un po' di ferro Ce lo teniamo da parte Perché altrimenti Poi andiamo a finire male Sono le fornaci Sono le fornaci Hai ragione Hai ragione Quindi mi devo spostare in fretta Va bene C'ho un po' di roba nell'inventario Volevo sistemare qualcosina Ma no Va bene così Va bene così Perché se no ci moriamo di caldo Cico allontanati 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 No è vero È vero È vero È lo stiamo dicendo E tu rimani lì Allora vedi che però Stiamo anche flippando di cervello Un pochino tutti eh Eh ma è troppo difficile Eh ho capito Ma è difficile appunto Cerca di rendertelo più facile Non rimanere in mezzo Al fuoco delle fornaci Che si muore Porca miseria Questa rimane indietro Se ne va per conto suo Tu rimani vicino al fuoco delle fornaci Giorgio Io Muori di caldo Ed è un topo Va bene È quello sempre È sempre Oh bisogna sdrammatizzare un pochino Perché qua va a finire malissimo Altrimenti piangiamo Ma piangiamo Ma qualcuno ha piantato un fiore sulla tomba Ah vabbè Sono stata io Ma come Non è il momento Cioè mi sembra che siamo un attimino Preoccupati di rimanere in vita noi Non di mettere i fiori alla tomba di Alex Però Allora visto che Quindi vuoi tornare qui Sicuro Voglio tornare qui Perché Fate attenzione È l'unico posto dove possiamo mettere il naso Almeno Attento a non scavare troppo Cosa c'è Porca miseria Dai Almeno questo Eh lo so Lo so L'unico piacere della vita di Minecraft Scavare Almeno questo Non me lo toglieranno Non si può fare nulla Allora ditelo Bisogna Cancellare Scancellare il mondo Lo togliamo Andiamo a giocare A Minecraft Per persone Che non ci hanno mai giocato prima Eh Ok Ma qui c'è qualcosa però Le torce hanno funzionato Perché qui non ci sono più Sì 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 Hanno funzionato Cosa hai visto qua sotto La ruce C'è uno zombie anche C'è uno zombie C'è uno zombie Forse c'è una caverna strana Non lo so Io non ci andrei Perché poi a risalire da lì È un problema Infatti Volendo potremmo pure Eh però La vedo male Possiamo provare a salire invece No 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 Secondo me c'ha ragione Cico però Dobbiamo andare qua sotto È un buon posto Metto l'acqua Metto l'acqua L'ho messa io L'ho messa io L'ho messa io Riprendi la tua Riprendi la tua Presa 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 Scendo io mi raccomando eh Adesso più che mai È importante Fate attenzione Datevi un'occhiata intorno È enorme Tranquilli tranquilli L'importante è che voi rimanete dietro di me Ok Se voi rimanete dietro di me Ci penso io Uccido tutto quanto Quanto io E vi dico io Potete scendere Potete scendere Allora Mamma mia ma lì No no Indietro È pieno di roba È pieno È pieno Oddio Ci sono scheletri Come se piovesse Proprio tantissimi E di là Qui Di là c'è un ciupacabra Cico levati Pienissimo Tranquillo 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 Questo C'è anche il grue C'è anche il grue C'è il grue Ti hanno visto Ti hanno visto Tutti e due Ok ok tranquilli 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 Me lo sistemo Me lo sistemo L'importante è che voi È dietro di te È dietro di te Ok tranquillo tranquillo Ho ucciso Uno Ok È andato anche l'altro Ok perfetto perfetto L'armatura è buona L'armatura sta funzionando bene Sì 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 Però ho sbiancato in viso proprio lo stesso Non è che Cioè Ti dà un po' di protezione Mi stava rompendo la testa Rimanete vicini Rimanete vicini Sì siamo qui Siamo qui Ok Allora Cico Se mai io dovessi Sei tu il secondo Perché sei l'unico che ha un altro pezzo Ok Quindi Se io dovessi morire o comunque avere difficoltà Se muoio io è finita Però Allora possiamo prendere altro ferro Voi picconi non ne avete picconi di pietra No no Di pietra sì Io di pietra ce l'ho ma posso prendere solo il carbone Allora metti qualche livello in mining Forza Non fartelo neanche dire Eh noi li abbiamo Come non avete più livelli scusa Io ne ho No finiti tutti Allora li ho presi io dall'esperienza dei mostri che abbiamo ucciso Eh sì sì Attenzione Levati 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 State attenti però Si sentono i suoni Tenete il volume alto Tenete io l'ho dovuto anche abbassare un pelino Perché iniziava a darmi Alcuni mostri urlano Ma altri sono molto Poco Poco rumorosi E quindi è difficile sentirli se ce li hai vicino Qua più avanti Non c'è più niente Ma ho l'impressione che qua si vada a finire da un'altra parte Si esce forse Si esce Perché c'era dell'erbetta Quindi mi sa che più avanti qua C'è un'altra uscita Però Di materiali qui ne stiamo trovando tanti E cazzo di roba Se continuiamo così Possiamo farci l'armatura per tutti Dai scavate Aiutatemi Forza Ma beh non abbiamo skill Ma è giusto Ma hai detto che non avete l'esperienza Beh tu Anna si O no No non ce n'ho abbastanza Ah questo però possiamo Potete prendere solo la roccia Il carbone Il carbone si E allora prendete tutto il carbone Cico non ti far richiede Ok 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 Prendete tutto il carbone Almeno qualcosa possiamo fare no Cioè non ci sentiamo completamente inutili Che non possiamo fare niente E ogni cosa che muoviamo Rischiamo di morirci Ok Se andiamo avanti così Comunque miglioriamo Beh certo se ci facciamo tutti l'armatura di ferro Cioè ci sfondiamo di ferro Ne prendiamo tanto Carbone anche per scioglierlo e tutto Poi andiamo Lì siamo immortali eh No Immortali no Per modo di dire diciamo No proprio per niente Anche perché Ti do un'informazione importante Mi sa che le armature si sfasciano Più in fretta Cosa è stato? Cos'era? Ma pure voi avete visto bianco per un attimo Sì 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 Io ho visto tutto nero tipo Secondo me sta spavolando qualcosa Esatto No no Esatto No basta basta Oddio Putta 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 Questo levati 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 Uccidio 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 La prima cosa che devi fare tu Levati levati Va avanti da solo Porca miseria cico Porca miseria Ti fai ciucciare nel topo E che cos'è? A Giorgio mi aspetterei Comportamenti del genere Ma è troppo forte Anche il topo poi Basta dai Andiamo Torniamo a casa Torniamo a casa Troppo pericoloso anche qui Dai veloce Andiamo Rimanete sempre dietro di me però eh Non andate avanti Qua ce n'è ancora di carbone Il carbone è buono Perché comunque possiamo fare le torce però Vabbè ci torniamo Ci torniamo Dai venite 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 Ci servirebbe altro ferro Un ragno a destra A destra Ma basta 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 che cavolo Ma si è attaccato? Si si era attaccato Ma io non ne posso più Che schifo Non ne posso più Tornate sopra ok Tornate sopra Va bene Tutti eh Io rimango un attimo indietro Ma voi andate Che sicuro di voler rimanere da solo? Sto prendendo giusto altri due pezzettini di ferro Voi andate Iniziate a salire ok Che non voglio Ci siamo ci siamo Andate andate tranquilli tranquilli Giorgio anche tu? Si 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 ci sono anch'io Sono dietro cibo Ho preso qualche altro pezzetto di ferro E basta Vado via anche io Risalgo anche tu Risalgo anche io Non Cioè sono Sono Esasperato Cioè Non so cosa fare Io spero L'unica cosa che L'unica nostra speranza L'unica Se noi riusciamo a farci Tutti un'armatura di ferro completa Potrebbe essere che allora Riusciamo ad essere abbastanza forti E da sopravvivere Lì si che possiamo Forse Ma se non ci basta neanche quella Allora guarda Facciamo meglio a chiudere tutto Baracca e Burati Cambiamo serie È difficilissimo È difficile Vuol dire che non possiamo fare più niente Perché già adesso siamo In una difficoltà completamente Praticamente al limite Non possiamo fare quasi nulla Ogni cosa Ogni movimento Praticamente è letale Ogni mostro che troviamo È fortissimo Io non so Non possiamo neanche dormire Dobbiamo cercare di attaccare I mostri più deboli Tipo i topolini normali Fare l'esperienza In modo da avere esperienza Esatto Eh potrebbe essere una tattica Comunque Di ferro ne avevamo anche un pochino in più Quindi in teoria Ti l'ho rilasciato prima La parte centrale dell'armatura Ne posso fare un'altra Ok E non è male E questa qui la diamo ad Anna Tieni Anna Giorgio Ne faccio una anche per te Subito Ok Va bene Va bene grazie Così abbiamo tutti Se non altro quello Anche se l'elmetto forse È quasi più importante Tieni Eh ma l'elmetto abbiamo già questo Eh ma sì A me non c'è una più Io almeno non posso metterla Non puoi metterla E allora devi fare un po' di esperienza Poi ti porto sopra E' notte adesso Fatemi vedere Sì è notte È notte Porca miseria Allora fuori c'è uno spawner C'è una cosa di cobblestone Dentro c'è uno spawner Due spawner di zombie È abbastanza facile entrarci E fare esperienza Quindi possiamo andare lì La facciamo va bene Ok La facciamo lì L'armatura che vi ho dato Tenetevela Conservatevela Io prendo questo ferro Che abbiamo appena fatto Lo conserviamo Perché questa è l'unica roba Che ci rimane Già è l'unica L'unica difesa che abbiamo Dobbiamo sempre averne un po' Anche per fare le spade E le cose La spada di ferro Serve anche a chi ha Attacco superiore a 8 Chi di voi ce l'ha? Io attacco Io no A 6 per ora Allora non ti basto Ho detto superiore a 8 Cico Stai rendendo le cose più difficili Di quanto già sono Ok? Non sapete neanche le statistiche Che avete Chi ha attacco? Devo prendere i livelli adesso Nessuno di voi ce l'ha superiore a 8 No perché ho aumentato la magia Ok La magia Noi non abbiamo niente per usare la magia Non abbiamo Nulla Cioè Quella più avanti Porca miseria raga Io non Cioè bevo una pozione di rigenerazione L'unica roba che abbiamo Che Siamo proprio poveri Cioè siamo Cosa ti metti nel letto tu? E intanto mi curo Almeno così Sì ma io ho paura Che se tu ti metti nel letto Nasce qualcosa Spauro Ah sicuro Eh quindi Anna Non so se è una buona idea sai Tirati su Dici di no? Eh dico di no Dico di no no Eh ma stavolta mi ha fatto mettere E mi ha detto Non mi ha detto che ci sono mostri Quindi forse possiamo dormire No quando ci siamo messi tutti prima Comunque io sto prendendo danno E non so da cosa Ma come è danno scusa? No no neanche è caldo Effetti? Niente Avevo rigenerazione Adesso non ce l'ho più Sto bene Ah sano? Ma che ne so guarda Ah mi siete niente No sto bene Proviamo a dormire tutti Vediamo che cosa succede Dai Ok Tutti 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 Vai Ok In teoria stiamo dormendo Ok adesso passa Ora passa Ok Passata Ok Io sono completamente rigenerato Buonissimo Anch'io Ed è passata la notte Quindi è vero Quindi la notte passa Aspettate Fermi Attento C'è roba Quanto? Togliti Ti devi togli Perché rimani a fianco? Eh scusa Pensavo ti avessero attaccato Non devi rimanere a fianco Perché io poi non posso muovermi Non posso guardare Se ci sei tu C'è qualcuno? Ficca naso Non te lo dico Va bene Non te lo dico Oh Non lo so se c'è qualcuno Non lo so È sicuro Ho sentito rumori di ali O era Giorgio che si è fatto crescere le ali Diventato un topo ragno Basta le cose con i topi Eh L'unica gioia è rimasta Non si può scavare Non si può dormire Cioè dormire abbiamo visto che si può Stavi rompendo l'acqua pure No scusa Ho la torcia in mano Cioè ma che cosa sei? Ma fai la parte per questo Minecraft impossibile Sei dalla parte di Minecraft impossibile No 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 Un topo acquatico Cioè questa serie ci sta facendo uscire di testa a tutti eh Eh sì Eh sì Vabbè Adesso andiamo nello spawner Però per ora ci fermiamo Chiudiamo il video qua che abbiamo fatto fin troppo E basta Fateci sapere se dobbiamo proprio continuare Perché inizio a non poterne più eh io Se proprio proprio volete O no Lion e la gang del topo Out Radioattivo però